La più bella che potevamo immaginare, perché Patrick è libero, i cartelli che vedete qua, Patrick libero subito, che è il nostro desiderio dal 2020, si sono avverati. Patrick è libero dopo un calvario che dura appunto fino dal 2020, data indietro così tanti anni, anni in cui Amnesty International è sempre stata al fianco di Patrick Zaki. Abbiamo raccolto in questi anni migliaia di auguri, di desideri, di messaggi per la sua compagna, per la vita di tutte queste persone, ma non possiamo abbassare l'attenzione. Si stima che siano oltre 60.000 le persone detenute in questo momento in Egitto. La società civile non si è mai stancata di stare al fianco di Patrick, ma non si è mai stancata in questi anni di stare al fianco di tutti i prigionieri di coscienza.